Una segnalazione da parte di un telespettatore di Rete Veneta che ci parla di un episodio già accaduto ma al quale non si è dato seguito o meglio se ne è dato ma a metà. Sentiamo direttamente il suo racconto. Il 21 settembre 2019 mio fratello a mezzogiorno e un quarto mi riceve una telefonata in quanto ha avuto un incidente in una passerella nel fiume Brenta a Tezze sul Brenta. Mi sono precipitato là e l'ho visto incastrato dentro a questa passerella di legno dove si è sfondato il fondo. Era già sfondato il fondo? No, no, il fondo non è sfondato, è stato sfondato nel passaggio di mio fratello per cui con un altro passante l'abbiamo tirato su, portato all'ospedale e ha subito la frattura dell'omero. Quindi un'operazione anche? Ha avuto un'operazione e con tutte queste conseguenze che è andato dietro. Abbiamo denunciato il fatto dei carabinieri di Rosà, abbiamo segnalato il discorso all'amministrazione di Tezze sul Brenta. Detto questo risponde l'assicurazione ma questa è una procedura che poi è a parte. Fin qui tutto bene, il comune risarcisce per quanto accaduto. Il comune si è comportato bene nel senso che ci ha fornito l'ente assicurativo e ci siamo rivolti a questo ente e stiamo facendo la procedura. Ma non è finita qui e quanto dice il telespettatore potrebbe anche investire un po' tutti. Nel frattempo avevano messo due striscioline per sbarrare il passaggio. Sono passato 15 giorni fa, non c'è più né nastro adesivo e niente. E noi di Rete Veneta cercheremo di avvicinare il sindaco e chiedere spiegazioni.